Io vedo in generale il modo in cui si parla di giustizia in questo Paese che è un segno del modo sbagliato di parlare di politica in questo Paese. La giustizia dovrebbe essere uno dei temi che più di altri vengono sottratti al fuoco della polemica politica contingente e invece diventa uno strumento per litigi molto spesso di bassa lega. Le questioni giuridiche, le questioni della riforma del processo, le questioni della riforma degli istituti giuridici sono questioni che hanno un altissimo tasso tecnico, richiedono che ne parlino persone competenti e serene, cosa che normalmente non accade. Detto questo, io nella cosiddetta riforma cartabia come è normale che sia trovo cose criticabili e cose positive. Ne dico subito una positiva di cui non si parla, che è importante secondo me, una molto maggiore valorizzazione della giustizia riparativa che è la direttrice per le società evolute per la riforma del diritto penale. Una giustizia che non si incentri sulla scelta del carcere come chiave di volta di tutto, che immagini la pena come uno strumento per rieducare come prevede la Costituzione, che riduca il carico sui tribunali e consenta ai giudici, ai pubblici ministeri e prima di loro ai poliziotti, ai carabinieri, ai finanzieri di indagare con efficacia sui reati gravi che tuttora affliggono la nostra società. Marco, su questo tu cosa ne pensi? No, io invece sono favorevole a una giustizia carcerocentrica perché penso che certi tipi di reati possono essere scoraggiati soltanto con la prospettiva del carcere. Non credo che nessuno si faccia spaventare dalle pene alternative della giustizia riparativa, ma in ogni caso non è questo il tema in questi giorni, perché in questi giorni non passa giorno senza che ve la faccia franca qualcuno che ha commesso un reato grave ed è riuscito a intimidire le sue vittime al punto da non farsi denunciare. Questa cosa noi la raccontammo appena la leggemmo quella legge, perché tu ricordavi prima che c'è quella vergogna dell'improcedibilità, cioè se il processo d'appello dura più di due anni e quello di Cassazione più di un anno, anche solo un giorno più di due anni, sparisce tutto, non è nemmeno la prescrizione dove almeno c'è scritto che il reato l'avevi commesso, non c'è più niente. Questo avrà degli effetti devastanti, ma li vedremo fra 3-4 anni, perché bisogna aspettare che maturino i tempi perché scatti l'improcedibilità, quindi hanno ancora un paio d'anni di silenzio su questo. Ma invece la norma in base alla quale il sequestro di persona, le lesioni anche gravissime, la truffa e altri delitti sono punibili soltanto a querela della vittima, sta già facendo disastri in questo momento. Il caso di scuola è il mafioso che sequestra e malmena, massacra di botte le sue vittime e poi queste vittime quando vengono liberate cosa fanno? Denunciano il mafioso, ma stiamo scherzando, che mafioso sarebbe se le sue vittime lo denunciassero bene? La fanno franca perché non c'è la querela e questo che cosa denota? Denota una concezione privatistica della giustizia, per questo io ogni tanto bestemmiando dico magari fossero fascisti, perché il codice Rocco l'ha fatto un fascista, ma il fascista almeno il senso dello Stato ce l'ha e quindi considera il reato non come una lesione privata a un cittadino singolo, ma come un danno alla comunità statuale e quindi lo punisco anche se il privato non lo denuncia, invece questi pensano, vabbè se la vedano loro, se vogliono querelare, lo Stato interviene, se non vogliono querelare fanno pari e patta. Anche perché l'Europa ci chiedeva una velocizzazione dei processi e non un'estinzione dei processi. Non di cancellarli.